Per capire il significato di un racconto, devi riuscire a riconoscere le informazioni anche quando sono dette con altre parole. Alice Cascherina Alice Cascherina casca sempre dappertutto. Oggi pomeriggio il nonno non riesce a trovarla. Alice, dove sei? Sono qui, nonno, nella bottiglia. Avevo sete, ci sono cascata dentro. Ed eccola là, che nuota affannosamente per tenersi a galla. Il nonno cala una cordicina dentro la bottiglia. Alice si aggrappa e si arrampica con destrezza. È brava in ginnastica. Per casa leggeremo tante e tante volte la storia di Alice Cascherina, riascolteremo il video che ho, il link di YouTube sulla storia di Gianni Rodari, dopo di che ricoprieremo il stampato minuscolo solo le frasi della comprensione corrette, quelle spuntate con la X di rosso. Quindi scriverò, prima frase, poi vi farò un esempio, vi farò un video. Oggi Alice è caduta nella bottiglia. Seconda frase. Punto. Alice nuota a fatica. Punto. Il nonno infila uno spago nella bottiglia. Punto. Alice si arrampica agilmente alla corda. Punto. E infine Alice riesce bene in ginnastica. Punto. Ogni frase dovrà avere il suo bel disegno. Sul quaderno a righe è instampato minuscolo. Questo lavoro dovrà essere fatto per il prossimo lunedì. Grazie. Grazie a tutti.